La funzione di una comunità monastica può essere paragonata a quella di un regolatore del metabolismo, cioè a un regolatore di quelle trasformazioni di natura chimica che permettono agli esseri viventi di sopravvivere e di rinnovarsi. Ma meglio ancora vorrei dire che un monastero è necessario per la completezza di una comunità ecclesiale, proprio perché è la testimonianza vivente e portata fino alle sue estreme conseguenze a Cristo e al suo Vangelo. Nel 2005 terminava il restauro del monastero di Claro, l'abbiamo filmato, ne abbiamo visto qualche immagine proprio per introdurci ad una mostra che invece è attiva in questo momento che riguarda il monastero di Claro, la sua storia, la sua realtà. Con noi c'è Don Fabiano Guidicelli che è cappellano del monastero di Claro. Cosa significa avere accanto un monastero, cioè per una parrocchia? È una presenza particolare, bisogna dire che Claro è un po' privilegiata da questo punto di vista. Abbiamo tre comunità religiose femminili, ci sono le suore indiane al laboratorio protetto creato da Don Colombo, ci sono le suore di Menzinghen in casa Nazare e poi la presenza più nota è sicuramente quella delle monache benedettine al monastero. Una presenza religiosa molto significativa. Il monastero è molto vicino alla parrocchia di Claro, come la parrocchia di Claro sente con un grande affetto questa vicinanza al monastero. Vuol dire che ci sono anche dei rapporti stretti, cioè la parrocchia organizza cose con il monastero? Ci sono tanti contanti personali tra le persone di Claro e le monache e il monastero. Rapporti ufficiali, quello della festa del 15 di agosto, quando la parrocchia sale in processione e celebra la messa da su. Questo è il momento istituzionale del rapporto tra la parrocchia e il monastero. La storia del monastero. Abbiamo intervistato una storica che si è occupata della storia del monastero, è Antonietta Moretti. La vediamo insieme. L'esperienza benedettina a Claro è portata, portata da un gruppetto di monache milanesi. Intorno alla prima badessa c'è la leggenda della miracolosa guarigione. Ma non sembra che la venuta a Claro di questa monaca milanese sia stata un puro caso, perché il monastero cresce subito e cresce subito con delle vocazioni locali. Già al momento della fondazione ufficiale del monastero ci sono due novizie che fanno la professione di solenne e provengono dalla valle di Blegno. E vent'anni dopo troviamo che le monache sono sedici e vengono tutte dalle regioni vicine. Per cui si deve pensare che la fondazione di un monastero femminile sopra Bellinzona, nella parte superiore del Ticino, era sentita come una necessità della popolazione locale. D'altra parte in quel momento si avviano dei rapporti con la gente del posto, con le autorità del posto che saranno sempre stabili e cordiali, cioè Claro godrà sempre in ogni circostanza della storia, dell'aiuto e della protezione dei signori del posto e della solidarietà della gente. Oggi direi che il rapporto è molto buono perché tutti alzano gli occhi con gratitudine verso questa chiesa bianca che adesso protegge proprio la regione sottostante, cioè mi sembra che sia un punto di riferimento del cuore che rimane molto solido. Tu sei coinvolto invece adesso in questa questione che riguarda la mostra e di cosa si tratta di fatto? Lo scopo dell'associazione Amici del Monastero è quello di far conoscere il monastero in Ticino e anche oltre. Abbiamo pensato fosse una bella cosa anche perché risponde a un interesse reale, quello di far conoscere il monastero da più punti di vista, quello della storia, quello della storia dell'edificio fino al restauro al quale accennavi all'inizio e poi la vita attuale delle monache, in fondo l'aspetto centrale di tutto. Diamo ancora un po' di spazio alla nostra storica. Quello che ha colpito me moltissimo è che nell'Ottocento, quando praticamente si rincorrevano le minacce di soppressione e queste suore erano sempre povere, sempre poche, in un monastero invecchiato perché dalla fine del Settecento non hanno più potuto fare restauri e aggiornamenti, è che con la minaccia della suppressione le autorità, i superiori ecclesiastici hanno invitato le suore a fare spesso gli esercizi spirituali per prepararsi spiritualmente al momento che poteva venire in cui si sarebbero dovute disperdere, andare in altri monasteri o tornare a casa perché lì il governo obbligava a chiudere. Ecco, proprio in queste circostanze e facendo praticamente ogni anno gli esercizi spirituali, le suore hanno completamente riformato la loro vita interna, cioè nessun documento ci ha fatto sapere che queste suore, suo acclaro, senza disobbedire a nulla perché la vita si era formata così, non avevano l'abito, conservavano delle proprietà private, cioè in pratica dentro il monastero c'era la monaca che veniva da una famiglia ricca e stava meglio e quella che veniva da una famiglia povera stava peggio. Proprio in queste circostanze loro decidono di adottare l'abito, di adottare la vita radicalmente comune, cioè mettere in comune tutto e di uniformarsi veramente alla regola di San Benedetto. Nel momento in cui, in fondo uno avrebbe potuto dire me ne vado a casa perché mi cacciano a casa nel momento in cui se quella vita lì non è scelta hai una chance per abbandonarla con onore, invece loro no, cioè loro la scoprono veramente come loro ideale e rinnovano radicalmente la vita monastica. Cioè questo per me è stato veramente stupefacente, cioè io non lo sapevo, non avevo mai potuto vedere i documenti del monastero, li ho visti adesso con la storia della mostra e questa cronaca in cui c'è questo passo commovente che dice guarda te, nel momento in cui soffriamo quello che nessuna di noi ha dovuto soffrire prima abbiamo riscoperto una tale novità e una tale voglia di dedicarci a questa vita che siamo più fresche e più sane di quando tra virgolette tutto andava bene. Un monastero che ha trovato nella persecuzione, nel momento della maggiore difficoltà, la capacità di ritrovare la propria identità, di ricomporsi più vicino alla sua regola. Oggi un monastero in un mondo secolarizzato come il nostro ha ancora un significato, è vissuto dalla gente come una realtà significativa. Credo di sì, forse oggi più che in passato, sottolineare questo primato di Dio vissuto in modo assoluto, in modo veramente forte è qualcosa sicuramente molto diverso rispetto alla vita quotidiana di tutti noi. Quindi mettere Cristo al primo posto, nulla anteporre a Cristo, come ha detto lo stesso San Benedetto, in fondo è questa la forza della vita monastica, questo primato di Dio che è determinante per tutta la vita delle monache e della comunità. In fondo è di esempio anche per tutti noi, ci mostra quello che è l'essenziale che forse noi tante volte lo mettiamo da parte, noi trascuriamo. Cosa significa realizzare una mostra come questa? Significa prima di tutto pensare cosa si vuole far conoscere del monastero, noi ci siamo concentrati su tre aspetti. Il primo curato dalla storica Antonietta Moretti che abbiamo sentito ripercorre quelli che sono gli avvenimenti storici nel senso in cui ciascuno può pensare alla storia. Una seconda parte curata dagli architetti duri scenolli, coloro che si sono occupati del restauro, ripercorre un po' la storia dell'edificio monastero, quindi dagli inizi una chiesetta e poco più, fino alle tappe che hanno segnato la storia del monastero, fino all'ultimo restauro al quale diamo un certo spazio. A proposito di questo, noi abbiamo al tempo dell'inaugurazione di questo restauro intervistato di architetti, che rivediamo insieme. È stato un lavoro molto importante all'inizio e di crescita, vuol dire che il primo approccio è stato quello di capire, di studiarne un po' il monumento, di capire l'essenzialità dell'edificio e anche di capire come con le suore poteva essere restaurato e ridato splendore al luogo. Abbiamo anche dovuto studiare tutta la regola benedittina per capire esattamente quali spazi e dove poterli anche inserire e questo anche abbinandolo all'edificio che è qui posto sul cono roccioso di Claro. Un altro aspetto molto importante era quello di studiare le particolarità, gli aspetti costruttivi, i materiali e in questo modo riproporli in una chiave anche moderna ma sempre rispettando il carattere del posto. Abbiamo trovato una situazione molto precaria all'inizio e essere consapevoli di fare qualcosa per permettere alle suore di avere una permanenza qua in un posto così lontano anche dai centri abitati. La vita di chi lavora al monastero cambia e è cambiata, soprattutto all'inizio noi ci siamo avvicinati, è stato un incontro molto forte, ci siamo avvicinati quasi con un po' anche di diffidenza verso un mondo così chiuso e di clausura e però è stato per noi un incontro decisivo e importante, quello con la comunità delle suore che ci ha aiutato a crescere anche e soprattutto personalmente lavorare tutti questi anni, otto anni, nove anni quasi vicino alla comunità per noi è stata una fortuna. Un restauro come questo costa evidentemente, la parrocchia viene coinvolta anche nel sostenere il monastero dal punto di vista economico? La parrocchia ha già tante chiese e quindi ha tante spese per restaurare le sue chiese, quindi non si è occupata di questo. Bisogna dire c'è stato un comitato pro restauri che si è occupato veramente di tutto quello che riguardava il restauro, persone con competenze diverse che si sono occupate, sia delle questioni tecniche del restauro, dalla progettazione, all'esecuzione del reperimento dei fondi, quindi un gruppo che reaggruppava persone con competenze diverse che hanno fatto veramente un ottimo lavoro come si può vedere sia visitando il monastero, sia vedendo i risultati attraverso la mostra. Nella parrocchia ti è mai capitato di incontrare persone che dicono io vicino a questo monastero mi sento bene quindi vorrei quasi quasi entrarci, cioè ci sono vocazioni che nascono, che possono nascere nella parrocchia. Staremo a vedere, sarebbe un piacere per noi, c'è stata una vocazione recentemente, veniva dal Locarnese ed è stato anche qualcosa di interessante, una volta concluso il restauro del monastero dell'edificio, una nuova vocazione e dunque un segno che la ripresa o questa vitalità del monastero non riguarda solo il contenitore della comunità monastica, ma anche la vita che si muove all'interno, quindi la vita della comunità monastica rinnovata anche attraverso questa nuova vocazione. Ecco, vita della comunità che è stata in qualche modo descritta e raccontata da un DVD, da un documentario che è stato preparato in proposito. Ne vediamo qualche parte. di un documentario che è stato preparato per noi, c'è stato un documentario che è stato Sì, è vero. Grazie a tutti. 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 Devo dire che è stata una dimostrazione di grande disponibilità quella delle monache di permetterci di riprendere un momento del loro lavoro. La preghiera si svolge in chiesa quindi tanti possono vederla. Vedere le monache mentre si occupano del ricamo, mentre si occupano del restauro del libro è veramente un segno della grande disponibilità, del grande desiderio delle monache di farsi conoscere anche per quella che è la loro vita reale. Non sono conosciute soltanto perché fanno i biscotti o cose di questo genere ma per quello che è il loro lavoro principale. E la stessa Priora diceva noi siamo confrontate con il lavoro non come passatempo, come riempitivo ma come lavoro preso sul serio. Quindi anche con gente che ha delle richieste, dei tempi ristretti da rispettare. A volte la fatica nel rispettare i tempi o magari qualche volta anche dover dire di no. Quindi è il lavoro ma è il lavoro reale con magari quello stress che il lavoro nel mondo comporta. Cioè è un'impresa insomma il convento, non è solo un luogo… A dire che un'impresa sarebbe eccessiva prima di tutto un luogo di preghiera e di lavoro. Tutto ruota attorno alla preghiera, al primato di Dio nella vita ma c'è anche l'aspetto del lavoro, un lavoro serio come detto. Abbiamo intervistato anche un altro membro del comitato dell'associazione Amici di Claro proprio per capire come questa associazione è vicina e sta vicina al convento. I monasteri sono stati in presenza fondamentale per la crescita dell'Europa all'inizio del Medioevo, durante il Medioevo. In una società conflittuale, difficile, in crescita. I monasteri lo sono tuttora questa presenza nel nostro paese, in Europa. Un luogo dove le persone si ritrovano e ripartono più unite. Un luogo da dove possono nascere realtà nuove, comunità nuove. Cioè un luogo di aggregazione tra le persone. Mi hanno coinvolto in questa storia, ho incontrato persone conosciute e persone non conosciute. Ma da lì è nata innanzitutto un'amicizia coinvolta sì da un monastero, ma una profonda amicizia tra persone diverse. Si tratta di far conoscere qualcosa di bello, qualcosa che ci richiama all'essenziale, ad una vita regolare, tranquilla, ma nello stesso tempo che irradia il fascino di Dio, la bellezza qui sulla terra, di qualcosa che non tutti vediamo nei nostri incontri quotidiani, o nei mass media, o nelle letture dei giornali. Progetti futuri per l'associazione e quindi per il convento? Stiamo pensando a qualche cosa. L'anno prossimo, o tra due anni, saranno i dieci anni della nascita dell'associazione Amici del Monastero, quindi stiamo cominciando a pensare cosa fare per quell'occasione. Non c'è ancora niente di concreto, quindi non ho grandi scoop da rivelarti. L'associazione Amici del Monastero com'è che si fa conoscere, a parte appunto queste esperienze come la mostra e così poi normalmente? Normalmente c'è la data del 13 di maggio, che è un po' una data che ricorre nella storia del monastero. L'elezione della prima badessa il 13 maggio del 1490, le prime monache di Rosano che portano avanti anche questa realtà di presenza benedittina, sono giunte a Claro il 13 maggio del 1971. Quindi una domenica vicina a questa data saliamo in processione, celebriamo la Santa Messa con la comunità monastica, sottolineare la ricorrenza. Annualmente organizziamo una conferenza o legata al mondo benedettino, al monastero, come in questo periodo, oppure anche su temi più ampi. Poi ogni anno pubblichiamo la nostra rivista Ored Labora, tanto per mantenere un nome nell'ambito benedettino, nella quale abbiamo seguito in fondo quella che era la storia del monastero, le varie tappe del restauro. pubblichiamo i testi delle conferenze, è un po' il nostro modo di far conoscere quella che è la realtà del monastero. Non ci interessa farci conoscere com'è l'associazione, ci interessa far conoscere il monastero e la sua vita. Certo. Avete un sito? Abbiamo un sito che è il sito del monastero, che è www.monasterodiclaro.ch, dove in fondo cerchiamo di far conoscere il monastero anche superando quelle che sono le frontiere, come permette di fare internet, un sito dove metteremo a disposizione tutto quello che è stato creato per la mostra. Quindi ci sarà il video, ci saranno le foto panoramiche a 360 gradi che permettono di vedere vari spazi interni del monastero, poi anche i testi e le fotografie che compongono la mostra. Ringrazio Don Fabiano di essere stato con noi e ci lasciamo su qualche immagine del monastero. Buona settimana. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.